Non c'è vera ricostruzione di un paese senza ricostruzione della persona nella sua pienezza. È la riflessione offerta da Papa Francesco incontrando i partecipanti all'incontro promosso in Vaticano a cinque anni dal violento terremoto che ha scosso Haiti. Pensando alla ricostruzione del paese e a quanto resta da fare, il Pontefice ha indicato tre pilastri fondamentali, la persona umana, la comunione ecclesiale e la Chiesa locale. Così, oltre all'aspetto puramente materiale, il Papa Bergoglio ha chiesto di non perdere mai di vista l'orizzonte trascendente dell'uomo che deve poter vivere la propria libertà, le proprie responsabilità e la propria vita spirituale e religiosa e di ricordare che la comunione testimonia che la carità non è solo aiutare l'altro, ma è una dimensione che permea tutta la vita e rompe tutte quelle barriere di individualismo che ci impediscono di incontrarci. Infine, un incoraggiamento per la Chiesa di Haiti. La testimonianza della carità evangelica è efficace quando è sostenuta dal rapporto personale con Gesù nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio e nell'accostamento ai sacramenti. Questa la forza della Chiesa locale. Grazie. 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 Grazie.